È una dimostrazione paradossalmente di affetto e di passione che nutro io in questa squadra, nella mia squadra, in quello che faccio e in un senso di responsabilità che ho nei confronti dei tifosi di tutta la città. È ovvio che per essermi speso tanto, insomma, è perché l'ambizione è quella di crescere. Ora, dovessimo riuscire a raggiungere, a tagliare questo traguardo quest'anno, se Dio vuole, ben venga, diversamente è un progetto a lungo termine, così come quando uno decide di fare un investimento con risorse autonome o un investimento diluendolo nel tempo e quindi il mio obiettivo è quello di rimanere a Andrea e di fare questa strada, anche se inizialmente in salita, ma di creare le basi per poter crescere anno per anno.